Maschera antigas cecoslovacca, dell'ex esercito cecoslovacco popolare. Questa maschera antigas è molto complessa in quanto ha in dotazione i filtri che sono avvitabili, vengono tolte queste membrane laterali da cui avvitiamo questo filtro che è svitabile. All'interno troviamo una ghiera che dobbiamo montare noi e va avvitata qui, dall'interno della maschera. Questi due, uno per lato, sono i filtri che vanno messi per completare la maschera. Al suo interno troviamo anche un tappo per borraccia, specifico per maschere cecoslovacche e per borracce cecoslovacche ovviamente. Questo tappo viene apposto sulla borraccia e consente tramite un tubo non incluso di poter agganciare la maschera al tappo della borraccia senza togliersi la maschera. Il sistema è regolabile a taglia unica, ovviamente adatta a varie taglie di modo che si possa adeguare comunque bene alla testa. All'interno troviamo varie stampigliature sia della taglia che forse dell'anno di produzione e qua possiamo vedere il tubicino di alimentazione per bere dalla borraccia. Questo è il metallo e questo è il gomma. Ha una bella visuale tramite dei grandi bulbi oculari. La maschera è corredata di una custodia molto ben fatta in quanto è attenuta a stagna contro gli aggressivi chimici ovviamente e ha due scomparti, uno superiore con delle ripartizioni interne e una taschina e uno inferiore dove spesso sono presenti i pezzi da montare nella maschera. Ricordiamo che la maschera è priva di certificazioni, non più utilizzabile per il suo uso in quanto scaduta e non certificabile in alcuna maniera.